Ma io mi aspetto un po' quello che mi aspetta un po' tutti diciamo, quindi di fare un buon anno e di niente personalmente io non perdermi, prendo tutti i suggerimenti che mi hanno dato, io come fai di allenatore, penso di guardare molto, di dare il mio pubblico. Luberman, secondo me bellissimo, bellissimo, vorrei sapere il motivo? Adesso andiamo a chiedere al Presidente.